Musica Termina 1-1 il derby tra Brindisi e Casarano più Casarano nel primo tempo più determinata la formazione ospite un Brindisi più deciso che sfiora invece la vittoria nella ripresa passano però solo 20 secondi e la formazione di casa sfiora il vantaggio diagonale di Dancora è pronto alla deviazione il numero 1 avversario al tredicesimo si vede invece in avanti il Casarano punizione dalla destra colpo di testa di Palmisano pizzolato devia sulla traversa al ventiduesimo il vantaggio ospite cross dalla destra colpo di testa sfortunato di Giannicello che devia la sfera nella propria porta il Brindisi prova una reazione nel finale trova il pareggio mischia dentro l'area di rigore e frucia a trovare la deviazione vincente che porta le squadre a riposo sul punteggio di 1 a 1 nel secondo tempo Brindisi subito determinato al terzo mischia dentro di rigore ci provano prima Ancora e poi Escu all'ottavo ancora sotto misura ci prova Marino e Touré ma la sfera non entra al dodicesimo invece si rivede il Casarano in avanti lancio per Palmisano sotto misura la sfera termina alta sulla traversa al ventitresimo invece gol annullato al Casarano passa invece un minuto e il Brindisi potrebbe andare in vantaggio Ponte in area di Ancora e di testa al centro per Dario che sotto misura non riesce ad angolare la sfera bloccata dal numero uno avversario il risultato non cambia le due formazioni si dividono la posta in pagno rinviando il primo successo del 2020 per il 2020 per il 2020